Borraccia francese F1, anni 50-60. Borraccia francese, fodero esterno in cotone, in spesso cotone, bordature cucite, doppio bottone automatico per chiuderlo a due altezze, in metallo ovviamente. Sul retro abbiamo un passante per cinturone e un aggancio da cinturone per cinturone con fori ovviamente. Saldamente cucito, il tappo è a vite in una plastica d'epoca, all'interno troviamo la guarnizione che potrebbe essere da sostituire, più volte è danneggiata. Borraccia interamente in alluminio, con gavettino a parte, con doppio manichetto abbattibile e reclinabile. Ottimamente tenuta, ben conservata, catenella per non perdere il tappo. sul fondo troviamo una targhetta su cui non è scritto niente, con ogni probabilità veniva scritto il nome del proprietario o un numero.